Viviamo in un mondo politicamente corretto, un mondo in cui si cerca in ogni modo di trasformare, diciamo, ogni disgrazia, ogni problematica, ogni oggetto, diciamo, di dolore in un qualcosa che dolore non dovrebbe generarlo. E a livello di principio va tutto bene, è giusto, quindi però che cosa va a creare questo? C'è una conseguenza triste, ovvero il linciaggio, la gogna emotiva e spesso anche mediatica nei confronti di chi sbaglia. Cioè non è più un mondo in cui, cioè in nome della pace, noi andiamo a distruggere chi magari combatte una guerra interiore. Quindi se tu sbagli oggi, vieni distrutto, ed è una cosa che riguarda per lo più il web o le televisioni, non è una cosa che esiste a fatti concreti. Perché ad esempio mi viene in mente, ero a casa di amici, di conoscenti, diciamo, tutte persone lavorano, rispettabilissime, persone normali, tranquille, e si iniziava a fare ironia, cioè tra persone, non c'entrano niente alle categorie, ma si iniziavano a usare delle frasi magari un po' pesanti a livello di insulti. Come si fa tra amici, nulla di assurdo. Però lì per lì pensai, cavolo, se questa frase che questa persona ha detto qui in questo contesto, dove nessuno si è offeso, sentito offeso, se fosse uscita fuori, se fosse detta come commento sul web, sarebbe, questa persona sarebbe stata distrutta, linciata, massacrata, finita sul Rai 1, ad esempio. E allora ho detto, la percezione di ciò che viene detto cambia, io personalmente certe terminologie non le utilizzo, perché non fanno parte del mio gergo, punto, non è neanche una scelta. Però mi rendo conto che magari molte persone dicono certe cose all'aria aperta, ma dette in un contesto pubblico, no? Mi viene in mente oppure la zanzara F.Ball che dice, siete mai stati in un locale gay? Ci si insulta, ci si dice froccio tra di noi, a vicenda, e quindi di conseguenza il DDL Zale è una puttanata. Questo l'ha detto un trans, non io, io non me ne frega niente di commentare. Cioè questo per dire, a seconda del contesto in cui vai, le cose cambiano, il moralismo cambia. Bene, allora mi è venuto in mente di fare un episodio in cui voglio parlare un po' della violenza nelle scuole e del bullismo, semplicemente raccontando la mia esperienza personale, senza giudizi, senza niente, semplicemente andando a dire quella che è stata la mia esperienza, in modo tale che uno può dire, ok, nel bene e nel male, perché io sono stato sia bullizzato, diciamo, cioè nel senso ho subito degli attacchi e mi sono difeso, ma sia sono stato uno che poi ha attaccato, ha attaccato molto. Il primo episodio che mi viene in mente all'elementari c'era questo ragazzo, che poi siamo diventati ottimi amici, perché con tutte le persone che hanno cercato di bullizzarmi, poi abbiamo creato dei buoni rapporti. Comunque c'era questo ragazzo, che ad oggi tra l'altro ha una figlia, ha una vita sua, ha fatto tante cose nella vita anche degne della mia stima, altre un po' meno, però comunque diciamo che era la classica persona un po' disagiata a livello familiare, e a me mi rompeva sempre i coglioni. Quando andavamo a ricreazione a giocare a calcio, ogni scusa era buona per attaccarmi, falciarmi, no? Un giorno mi ruppi le palle, io ai tempi ero veramente un bravo ragazzino, un bravo bambino, andavo benissimo a scuola, capello a caschetto, facevo quello che mi dicevano i miei genitori, comunque avevo la mia personalità, però comunque ero sicuramente molto più saggio di adesso. Un giorno, mentre stavo camminando per le scale, lui stava iniziando un po' ad accimentarmi, diciamo, io non volevo scappare, mi son girato e ho dato uno schiaffone, così, nessuno se lo sarebbe aspettato, uno schiaffone in faccia, finito lì, non ho più avuto problemi con questa persona. Uno schiaffo è bastato, la reazione, perché ragazzi, da ex bullo, quale son stato, e adesso ci arriveremo, vi dico che il bullo vuole solo divertirsi, soprattutto una forma di bullismo intelligente, perché esistono due forme di bullismo, una stupida e violenta, quella, magari una persona che ti mette una testa nel cesso, insomma, quelle son cose da cui non si torna indietro, e una in cui invece vuoi utilizzare lo scherno per divertire te e divertire tutti. Difatti ci sono persone che ancora oggi conosco, che magari ai tempi delle medie erano, diciamo, quelli che facevano i compiti a tutti, quelli che erano un po' più attaccati, che ad oggi li incontro e mi dicono, guarda, tornassi indietro rifarei dalla prima media in poi, perché io studiavo e mi divertivo. Cose, voi dite, assurde, ma ci sono anche queste, anche queste storie. Comunque, la stessa situazione, diciamo, di un colpo solo non ha funzionato alle medie, quando ho avuto un face to face con un ragazzo albanese ripetente, ci, diciamo, in bagno ci fu la prima scaramuccia, poi fuori, mi diede il figlio di puttana, io gli diedi un cazzotto, l'ho anche stesi, pensai che finiva lì, si alzò e mi crocchio di botte, proprio mi diede una quindicina di cazzotti in faccia. E lì capì che un colpo non basta, ce ne servono, cioè, praticamente come insegnano i genitori zingari e i figli, quando, no, non tutti, però ecco, nella mentalità zingara c'è questo insegnamento, che quando fai a botte a una persona, se inizi tu, devi continuare fino a che non perde i sensi. E quindi di conseguenza, ecco, lì imparai questa lezione, che se vuoi attaccare una persona poi non puoi fermarti al primo colpo, ma quando è finita la situazione, perché altrimenti la reazione può essere violenta e incontrastata. Quella fu una grande lezione per me, comunque me la cavai, feci il mio, è andata bene così, però ecco, lì capì che non era una questione di un colpo, che se volevi fare a botte con qualcuno dovevi essere pronto a fare male, a farti male, a fare male a quella persona. Poi nella vita ho fatto a botte diverse volte, e non le ho più prese, perché comunque sono andato sempre diritto per la mia strada, però quell'esperienza fu importante. In ogni caso ne ho già raccontate due, poi che è successo? Che sono andato al liceo, io venivo da una scuola media abbastanza particolare, e lì ci sono stati vari episodi, cioè quando poi arrivi al liceo, ho fatto un anno solo, avevo fatto una bella gavetta, quindi diciamo che ero diventato un po' un... ero passato dall'altra sponda, non ero più preda, ero solo predatore, perché comunque quando ti fai rispettare poi smetti di essere la preda, no? Anche alle medie comunque c'erano stati vari casi di bullismo anche abbastanza violento, persone prese accintate, non direttamente dal sottoscritto, però comunque ero lì, persone che magari hanno subito violenza verbale, c'era un ragazzo che aveva un po' un fare un po' più omosessuale, ai tempi venivi massacrato comunque, però comunque anche lì era una cosa molto ironica, lui poi tirò fuori i coglioni, si fece valere anche sto ragazzo, perché ecco il consiglio che posso dare a una persona che viene disturbata è tira fuori le palle, non aver paura. Cioè se una persona ti attacca perché ad esempio sei omosessuale, dove è il problema? Cioè io ti dovrei attaccare perché sei etero? E quello è il discorso, è la contromossa. Poi sono stato un anno al liceo, al liceo mi sono divertito, ho fatto diciamo un bel casino e il bullismo era soprattutto verso gli insegnanti, cosa che poi nell'ITIS è diventata putiferio, cioè roba che il primo giorno palle di carta infuocate contro determinati insegnanti. E io non potevo crederci, l'ITIS era un po' il paese dei balocchi per me e per tutti quelli che volevano divertirsi. Ovviamente era, poteva succedere che poi ti scontravi con persone più grandi. Mi ricordo quando presi a ceffoni un ragazzo che mi si sedette a fianco sull'autobus, cioè follia, follia pura. Ai tempi uno stava schizzato, eravamo giovani, eravamo incazzati, eravamo esibizionisti. E poi mi dovetti scontrare con persone più grandi, però ci fu, diciamo, una questione di rispetto reciproco oppure come quando un professore mi tolse le cuffie, lo presi a calci, era il professore di un'altra scuola, venne il licepresidente dell'ITIS, mi prese le braccia e mi disse qua non stiamo al... cioè qua stiamo a... questi sono dell'alberghiero, non sono abituati a questo modo, a questo trattamento. Ecco, fu una cosa, una scena epica. Comunque a l'ITIS diciamo che la violenza è sfociata nella follia più totale. Poi ovviamente le cose sono andate oltre. Uscito dalla scuola, mi sono ritrovato, mi sono immerso in un mondo diverso dove non è più bullismo, non bullismo, perché poi quando si sfocia nella delinquenza e lì è tutto sbagliato. Lì ci sono altre regole, altre leggi, recupero crediti, non farsi fottere, conoscere determinate persone, protezioni, proteggersi da soli, non lasciarsi proteggere, perché se io nella vita penso a tutte le volte in cui davanti a uno scazzo potevo chiamare persone non più grandi di me a livello d'età, ma più grosse di me a livello di importanza in quel giro specifico e non l'ho fatto, e meno male, perché tu per risolvere un problema da niente ti metti in debito a livello di problematica con persone più pericolose, diciamo, no? E quindi di conseguenza ti ritrovi a dover fare dei favori ad amici che sono amici e che ancora oggi lo sono, ma che a quel punto ne sarei stato debitore, sarebbe stato un grande problema e quindi diciamo che sono uno che i problemi sarebbero sempre risolti da sé. Comunque, per quanto riguarda il discorso della violenza nelle scuole, io avevo un amico all'ITIS che praticamente era geniale, perché lui appunto riusciva a far divertire tutti, non era uno che ti faceva il bullismo violento, era uno che gli piaceva divertirsi e quindi prendeva un po' in giro tutto quanto e tutti quanti, ma nessuno si sentiva offeso, eravamo tutti amici, era questa la bellezza, perché poi a un certo punto inizia a trovare, no? Il mondo. Poi è chiaro, ci sono stati anche personaggi che hanno un po' subito cose veramente ingiuste, come un povero ragazzo che ogni giorno che veniva, io personalmente e questo amico gli mettevamo una gomma nei pantaloni. Quante ne ha dovute buttare di gomme nei pantaloni a causa di questo? E una volta pure stavamo a prendere i quaderni per copiare, lui non poteva scrivere, allora si riprese il quaderno di forza, ceffoni, e vabbè, era un ambientaccio, era un ambientaccio, persona che poi personalmente stimo, so che poi finita la scuola si è preso cura della sua famiglia. Ecco, ci sono alcuni soggetti che personalmente mi è dispiaciuto tanto essere stato cattivo, diciamo, no? Mi è dispiaciuto. E vabbè, sono passati tanti anni e ho pagato il mio debito con la vita e con me stesso, però ecco, ci tenevo a dire che il mondo è così, è un mondo duro, è un mondo difficile, certe cose le capisci col tempo. Per non passare da spietato quando non sono, voglio raccontare invece magari un altro episodio quando alle medie con una persona che poi è diventato un mio grandissimo amico ancora oggi cercò, diciamo, di sottomettermi, lui era, diciamo, quello un po' più che comandava, diciamo, la lobby delle seconde e terze medie un po' per motivi fisici, un po' perché già era un delinquente, un po' perché poi è diventato uno dei più grossi e proprio a livello concreto, anche a livello di condanne e praticamente ci fu questo fatto che dietro di lui tutta la classe ce l'aveva contro di me perché ero un po' presuntuoso in quel periodo soprattutto e io non mi volevo sottomettere e poi rientrano i professori ci fu questo face to face e il fatto che io non infamai questa cosa ci portò a diventare grandissimi amici quindi di conseguenza anche lì ci fu questo episodio una seconda media che mi ha fatto crescere tanto so tutte cose che mi hanno fatto crescere e non rimpiango nulla perché comunque sono tutte cose della mia formazione e niente comunque questo per dire ragazzi un mondo il mondo è fatto di dolore di sofferenza non è giustificata non è giustificabile però purtroppo è così dietro me che ero quando facevo il bulletto si nascondeva solo un ragazzo insicuro un ragazzo che ha sofferto un ragazzo che stava vivendo un sacco di problemi interiori e non solo quindi andavo condannato ma forse andava condannato il sistema che avevo attorno così come magari non sto giustificando me stesso però anche ragazzi che magari hanno commesso reati a 18-19 anni stanno scontando ancora oggi a 30 anni non è non è bello non non è neanche però condannabile così tanto un ragazzo a 18 anni che sbaglia a 17 perché non capisci un cazzo a quell'età non capisci niente quindi di conseguenza creare una gogna mediatica a un giovane ragazzo di 17 anni che non sa niente della vita perché magari fa l'uscita sbagliata è vergognoso io dico non non andiamo a condannare l'ucignolo insegniamo a Pinocchio perché bisogna imparare e bisogna essere delle brave persone rispettose del prossimo e lasciamolo sbagliare perché solo sbagliando capirà chi è e perché certe cose sono sbagliate perché la teoria purtroppo non è efficace come la pratica e non c'è persona o un gesto sbagliato o quindi di conseguenza un qualcosa che tu vai a fare che va contro il prossimo che poi non si paga si paga tutto ogni errore la legge della vita è sempre stato così e sempre sarà però una gogna mediatica per una cosa di piccola caratura è pesante perché io magari ho offeso una persona perché io ho dato delle dell'omosessuale o gli ho dato del quattro occhi ok e quella persona si è sentita offesa ha sofferto ma una gogna mediatica poi è una punizione smisurata per quel gesto per una persona che invece poi da quelle cose deve può prendere forza perché compromettere la vita per sempre di una persona è sbagliato da ogni lato e non importa quale reato commetti la dignità umana è alla base della costituzione di un'escalza di un'escalza